Ciao e benvenuto in questo video. Preparati perché oggi vedremo come colorare gli occhi di un personaggio manga completamente in digitale. Esploreremo due tipi di colorazione. La prima sarà una colorazione più semplice, adatta soprattutto ai principianti, mentre nella seconda andremo ad aggiungere molti più dettagli. Se lo desideri puoi colorare la lineart mentre osservi il video insieme a me. Sotto a questo video ti lascio il link di riferimento per scaricarla. Ci vediamo dopo la sigla. Prima di iniziare a fare la colorazione è importante una precisazione. Molto spesso si concentra sulla colorazione trascurando la lineart, ma per esperienza personale la lineart è veramente molto importante. Avere una buona lineart, quindi una buona base di contorno, ci permetterà di ottenere un effetto molto più professionale con la colorazione, anche se la colorazione sarà semplice. Per realizzare questa lineart trovate comunque il link sotto a questo video se desiderate utilizzarla. Ho utilizzato due livelli. Il primo è il livello bozza con il quale ho realizzato la bozza dei miei occhi. Successivamente ho creato poi un nuovo livello che ho rinominato lineart e l'ho utilizzato per ricalcare la mia bozza iniziale e ottenere così il mio risultato finale. Se non sai cosa sono i livelli e non sai come utilizzarli, ti consiglio di andare a vedere il mio mini corso dedicato a Procreate dove approfondiamo appunto tutti gli aspetti dei livelli. Perché per ottenere una buona colorazione, anzi un'ottima colorazione, i livelli sono fondamentali e saperli usare correttamente è veramente importantissimo, anche se la colorazione sarà semplice. Iniziamo quindi con il nostro gruppo dove all'interno abbiamo la lineart, ma possiamo anche avere semplicemente un solo livello dedicato alla lineart e sotto a livello lineart ho creato un nuovo livello che ho rinominato base di colore. Metodo di fusione lo lascio normale e utilizzo questo livello proprio per cominciare la mia colorazione. Per iniziare con la nostra colorazione dobbiamo innanzitutto preparare la palette di colore, quindi andrò a creare un nuovo livello che rinominerò palette e userò questo livello per realizzare appunto la palette di colori degli occhi. Come colore andrò a realizzare degli occhi rosa, quindi dalla mia gamma cromatica vado a selezionare un rosa che mi piace, per esempio questo, e questo qui per esempio sarà il mio colore primario, quindi il mio colore principale per quanto riguarda gli occhi. Perciò lo andrò a inserire in questo punto. Dopodiché sceglierò altre quattro tonalità che mi serviranno per completare poi la colorazione degli occhi. Per farlo io solitamente vado a cambiare leggermente la gamma cromatica, spostandomi verso destra o verso sinistra a seconda della situazione, mi sposto un pochettino verso il basso e verso la saturazione ed ecco che ho ottenuto il mio secondo colore. Per il terzo colore agirò nello stesso modo, quindi mi sposterò di nuovo nella gamma cromatica, mi abbasso e vado un po' più sul saturato. Stessa cosa anche per il quarto colore, mi sposto un pochettino a sinistra, scendo e vado verso destra. Questa sarà la mia palette di colore per la realizzazione degli occhi. Alla fine verranno un pochettino sul viola, però mi piace. Partiamo quindi con la colorazione semplice. Per realizzare la colorazione semplice ho creato un livello che ho posizionato sotto al livello della lineart e l'ho rinominato base di colore. Per fare prima in questo tutorial io ho utilizzato un livello assistito, quindi questo significa che tutto ciò che farò da una parte, da una metà dell'iPad, verrà riprodotta anche nell'altra metà. Quest'opzione naturalmente è facoltativa, io la faccio per velocizzare il tutorial e ovviamente si può fare solo se il disegno è perfettamente simmetrico, come in questo caso in cui abbiamo due occhi in posizione frontale. Iniziamo colorando la parte dell'iride, quindi vado a selezionare il colore principale, imposto la mia lineart, quindi il livello della lineart come riferimento, quindi clicco sull'anteprima e poi imposto riferimento, io lo avevo già fatto prima, riseleziono il mio livello base di colore e vado a fare il mio riempimento. Se non sai come utilizzare queste piccole scorciatoie ti consiglio di andare a vedere il mio video dedicato ai trucchi di Procreate dove ti mostro, oltre a questo, tanti altri trucchi interessanti per velocizzare il processo di colorazione. Con il pennello vado a sistemare eventuali bordi, visto che è molto sottile potrebbe esserci ne bisogno, e abbiamo la nostra base. Ora cominciamo con la creazione della tridimensionalità. Vado a selezionare il mio secondo colore e creo un nuovo livello, posso anche evitare di rinominarlo. Ora seleziono questo livello e applico la maschera di ritaglio. Se non sai cosa sono le maschere di ritaglio, sotto al video o comunque anche qui in sovraimpressione ti lascio il link di un video dove ne parlo in modo più approfondito. E riempiamo tutto quanto. Ora vado a selezionare la gomma, quindi sono sempre sul mio livello quello che ho usato con la maschera di ritaglio, scelgo un pennello, io userò pittura generale. Sotto a questo video comunque ti lascio anche il link con il mio set di pennelli personalizzato, se vuoi provare ad utilizzarlo, e vado a cancellare questa porzione. Ora riseleziono il pennello, rimango sempre sullo stesso livello e vado a disegnare la pupilla. La dimensione della pupilla varia in funzione del vostro stile e di quello che preferite, ma in generale la colorazione che andremo a vedere in questo tutorial è molto generica, potete tranquillamente poi personalizzarla a vostro piacimento. Considerate questo video come una linea guida, gli occhi possono essere colorati in tanti modi diversi. Andiamo a cliccare sull'anteprima di questo livello e applichiamo il blocco alfa. Successivamente selezioniamo il quarto colore, quindi quello più scuro, scegliamo un pennello morbido, per esempio anche il pennello stile aerografo, e andiamo a colorare in questo modo. Praticamente creiamo un gradiente che dalla parte superiore diventa sempre più chiaro man mano che si scende, quindi insistiamo di più nella parte superiore seguendo la forma dell'occhio che abbiamo realizzato. Adesso invece creo un nuovo livello e in questo livello disegnerò la pupilla. Quindi faccio zoom, seleziono il colore più scuro, seleziono anche il pennello e vado a disegnare la pupilla. Solitamente la pupilla non viene disegnata esattamente al centro, ma leggermente verso l'interno. Questo perché se noi disegnassimo le pupille esattamente al centro, lo sguardo apparirebbe perso, come se non stesse guardando in realtà da nessuna parte. Disegnare invece le pupille leggermente verso l'interno ci permetterà di dare uno sguardo un pochettino più realistico e vivo al nostro personaggio. Quindi per esempio in questo caso il centro esatto sarebbe stato questo, mentre invece io le ho disegnate leggermente più all'interno. Questo aspetto è molto importante per dare vita anche al personaggio. Per mostrarvi un esempio, se io disegnassi due occhi in questo modo con la pupilla esattamente al centro, praticamente l'occhio non sta guardando da nessuna parte. Se invece io andassi a disegnare gli stessi occhi con l'iride e la pupilla leggermente verso l'interno, ecco che il nostro sguardo si sta posando su un elemento in particolare, per esempio, un elemento che si trova in questo punto. La stessa coda può essere fatta anche con elementi che si posizionano in altri punti, quindi per esempio se avessimo lo sguardo rivolto qui potremmo disegnare gli occhi in questo modo, così sembrerà che l'osservatore stia guardando in questa direzione. Detto questo mi raccomando attenzione a dove disegnate la pupilla. Procediamo con il tutorial. Realizziamo adesso un nuovo livello che useremo per creare la luce negli occhi. Questo livello in realtà lo andrò a posizionare sopra il livello della mia line art. Selezionerò un colore molto chiaro che non sarà esattamente bianco ma sarà un azzurrino molto molto chiaro. Seleziono il pennello, io userò line art inchiostro dal mio set personalizzato di Procreate e vado a disegnare due punti luce, uno qui sulla sinistra e uno qui sulla destra. Il disegno dei punti luce in realtà è molto personale, si presta soprattutto al vostro stile di disegno e dipende anche dall'espressione che volete dare al personaggio. Quindi con emozioni forti, magari avremo dei punti luce molto più grandi, con personaggi un po' più arrabbiati, magari avremo dei punti luce più piccoli. Comunque dipende soprattutto dal vostro stile, perciò non c'è una regola fissa per questo. Come in generale comunque non c'è una regola fissa in generale, questo video vuole essere appunto una linea guida. Adesso manca il blocco intermedio, quindi torno indietro al livello che avevo realizzato per la parte di sfumatura, quindi questo livello, torniamo in questo livello qui, deselezioniamo il blocco alfa che avevamo inserito prima, quindi l'ho rimosso e selezioniamo il terzo colore. Facciamo zoom, seleziono il pennello di riferimento, io userò un pennello line art bozza, quindi un pennello comunque abbastanza rigido, e andrò a disegnare delle linee in questo senso. In pratica è come se noi stessimo creando questa parte, però andiamo a disegnare soltanto la parte finale, quindi questa parte qui e quest'altra parte qui. Nella parte centrale invece andrò a fare dei piccoli punti, sempre immaginando il continuo del mio cerchio, quindi qualche punto senza pensarci troppo e voilà. Ora vado a selezionare di nuovo il mio livello base di colore, quindi il livello che avevo usato all'inizio, seleziono il primo colore e do una pennellata in questa zona perché non è stato riempito correttamente. Per far vedere meglio l'effetto nasconderò gli altri livelli, colorerò questa zona, torniamo indietro con lo zoom e riattiviamo i livelli precedenti. Ovviamente i livelli potevano essere mantenuti visibili, io l'ho fatto per mostrarti cosa sarebbe successo. Per concludere la base di colore vado a creare un nuovo livello che posiziono sotto tutti gli altri e rinomino questo livello con la scritta bianco. In realtà questo livello verrà utilizzato per colorare la sclera dell'occhio, quindi appunto tutta la parte bianca. Siccome il colore è bianco e sarebbe difficile, diciamo, vedere il bianco sul bianco, andrò a realizzare la base del mio foglio di questo colore, riselezionerò il livello bianco e andrò appunto a riempire questa zona. Anche qui ci tengo a fare una precisazione importante, molto spesso viene utilizzato il bianco puro ma non sarebbe correttissimo, in realtà la sclera ha qualche riflesso azzurrino, perciò la cosa più corretta in realtà sarebbe andare nella gamma cromatica dell'azzurro o del blu e selezionare comunque un colore molto molto chiaro che si avvicini al bianco. Questo vi permetterà di ottenere anche un effetto più realistico, quindi vado a pennellare e cerco di rispettare quella che è la forma dell'occhio, quindi andrò a pennellare per colorare proprio la mia parte bianca, in questo modo. Con la gomma vado a rimuovere la parte che fuoriuscita e voilà, abbiamo la parte bianca. Ora risistemiamo anche lo sfondo, ecco fatto. Adesso selezioniamo il livello bianco, creiamo un nuovo livello, applichiamo la maschera di ritaglio e a questo punto andiamo a fare l'ombra dell'occhio per dare tridimensionalità. Per farlo sceglierò un colore adeguato, io di solito utilizzo un colore tendente al viola molto molto desaturato, quindi solitamente in questo punto. Seleziono un pennello adeguato, io userò pittura generale e vado a pennellare solo nella parte superiore, rispettando sempre la forma dell'occhio. Et voilà, la colorazione semplice termina qui. Ora invece andiamo a vedere come rielaborarla per ottenere una colorazione più complessa. Per farlo agiremo soltanto su questo occhio, quindi l'altro lo lascerò in questo modo. Iniziamo con la lavorazione della pupilla. Vado a campionare il mio colore iniziale, quindi questo. Seleziono il livello della pupilla, prendo la gomma e cancello questa parte. Ora vado a selezionare il mio colore, quindi questo. Seleziono un pennello, per esempio pittura generale, scelgo la dimensione giusta e vado a pennellare in questo modo, seguendo la curva che avevo realizzato all'inizio. Ora campiono il colore della pupilla, utilizzo sempre lo stesso pennello, lo ingrandisco un po' e vado a creare una linea nella parte superiore, in questo modo, senza essere particolarmente precisa. Adesso invece vado a selezionare questo livello, quindi lo seleziono, applico il blocco alfa, campiono il colore più scuro che avevo realizzato, quindi questo, scelgo un pennello morbido e vado a colorare questa zona e quest'altra, in questo modo, prestando attenzione alla forma che avevo realizzato e cercando di seguire la forma dell'occhio. Infine rimpicciolisco il pennello e lavoro anche sul bordo esterno, da una parte e dall'altra. Adesso, sempre lavorando su questo livello, mi assicuro che il blocco alfa non sia inserito, quindi se lo è lo deseleziono e vado a lavorare meglio queste linee, quindi rendendole per esempio spesse in alto e creando qualche dettaglio in più, in questo modo. E adesso iniziamo con i metodi di fusione. Andiamo sopra i livelli che abbiamo creato, quindi comunque rimaniamo sotto la lineart, creiamo un nuovo livello e rinominiamolo luce. In questo livello applicheremo il nostro primo metodo di fusione, proviamo per esempio con colore scherma, faremo sempre in tempo a modificarlo. Selezioniamo il terzo colore dalla nostra palette e andiamo a creare un semicerchio nella zona superiore. Prendiamo ora lo sfumino, quindi un pennello adatto alla sfumatura, e sfumiamo la parte superiore, quindi di qua e dall'altra parte. Ora selezioniamo la gomma, la ingrandiamo e andiamo a cancellare leggermente questa zona, in modo da creare una specie di sfumatura. Se lo volessimo rendere ancora più dettagliato, potremmo aggiungere qualche linea, come per simulare una finestra per esempio, o un qualche riflesso. Seleziono ora un altro colore dalla palette, sempre utilizzando questo livello con il metodo di fusione, e vado a realizzare un altro cerchio in questa parte. Rimpicciolisco il pennello e ne aggiungo uno anche da quest'altra parte. In pratica stiamo aggiungendo vari punti luce all'interno dell'occhio, se necessario con lo sfumino sfumiamo, e ora andiamo ad aggiungere la parte qui sotto. Quindi seleziono un pennello, per esempio pittura generale, campiono questo colore, e con un pennello per esempio di questa dimensione, in modo molto leggero, vado a dare una pennellata da sinistra verso destra e viceversa. Una volta fatto questo, provo a selezionare un colore che mi piace, può anche essere un colore diverso, quindi non ha particolare importanza, e vado a creare un nuovo livello. Ora applichiamo un altro metodo di fusione, questa volta useremo luce soffusa, ma nel caso possiamo sempre cambiarlo. Rinominiamo la luce e procediamo. Qui andiamo a fare un cerchio in questa zona, uno più piccolo di fianco e un altro anche qui. Dato che questo metodo di fusione non mi piace, lo cambio in sovrapponi. Sfumo le parti che mi interessa sfumare, quindi per esempio questa parte qui, questo bordo e anche quest'altro bordo, e diminuisco anche l'opacità di questo livello, fin quando non sono soddisfatta. Ora vado a modificare il livello dove avevo creato queste luci qui, e le rimuovo. Quindi rimuovo queste luci e le vado proprio a ricreare. Colore quasi bianco, pennello, pittura generale, e vado a creare vari tocchi di luce. Questa volta ne faremo di più rispetto a prima, e avranno anche formi differenti. Io per esempio sono andata a creare questi vari riflessi di luce e adesso con un pennello molto piccolo vado a contornare un pochettino la pupilla e la parte qui sotto. Dopodiché campiono questo colore, quello che abbiamo creato per realizzare l'ombra dell'occhio, e con un pennello molto piccolo traccio questo contorno. Abbiamo quasi finito, adesso andiamo a riprendere il livello che abbiamo creato per l'ombra dell'occhio e applichiamoli il blocca alfa. Selezioniamo un colore che ci piace, io per esempio userò questo, e andiamo a pennellare solo nella parte finale della nostra ombra, così da creare una specie di sfumatura da scuro a chiaro. Ora andiamo a fare la parte finale. Selezioniamo il livello della line art e applichiamo il blocca alfa. Successivamente scegliamo un colore che si avvicina più o meno al colore della carnagione medio chiara, un pennello morbido, più o meno di questa dimensione, e andiamo a pennellare nella zona esterna, in modo molto delicato, e anche un pochino nella zona interna, rimpicciolendo se necessario il pennello. Infine possiamo selezionare un altro pennello un po' più rigido, cambiare il colore se serve, e dare una pennellata in quest'area qui. Ovviamente questa parte è facoltativa. Poi andiamo a riprendere il livello dove avevamo inserito le luci, o possiamo usare anche un altro livello se lo desideriamo, colore bianco, pennello per esempio line art, quindi comunque un pennello molto rigido, e andiamo a creare la tridimensionalità delle ciglia. Per tridimensionalità delle ciglia potremmo per esempio immaginarle in questo modo, quindi immaginare le ciglia così. Naturalmente immaginandole in questo modo diventa più semplice capire dove andare a mettere la linea bianca, che in questo caso andrebbe appunto qua in queste zone. Quindi immaginando le ciglia come degli elementi in 3d andiamo a realizzarne il contorno bianco, dando quindi poi un senso di tridimensionalità maggiore. Infine, se vogliamo, possiamo tornare sul livello dove avevamo inserito i metodi di fusione e provare ad applicare qualche altro effetto di luce. A me per esempio piace crearlo un po'. Infine vado a riprendere il mio livello del bianco e sfumo questa parte per fonderla meglio con la pelle. Et voilà! Questo è il risultato finale. Colorazione semplice e colorazione intermedia. Quale vi piace di più? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, lasciatemi un like per supportare i miei contenuti e come sempre vi auguro un buon proseguimento e una buona colorazione digitale. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!